Il comitato di Radica Deliani ormai è un appuntamento consueto, un'intervista al tesoriere Valerio Federico che ancora è un dirigente libero che può rilasciare liberamente interviste in questo spazio di sua giurisdizione e quindi non siamo sulle scale come nelle altre interviste e gli chiediamo ovviamente un po' come sembra che stia andando questo comitato, anche partendo dalla proposta iniziale di chiusura fatta da Bandinelli e un po' le evoluzioni e soprattutto gli chiediamo se questa emergenza che da tempo si trascina di tutta l'area economica molto presente sia appunto soltanto economica o sia anche un'emergenza effettivamente di iniziativa politica. Sai Gianni, i radicali da sempre vivono nell'emergenza e nello straordinario, del resto un movimento politico in senso generale che si oppone al regime, prima di tutto che lo conosce, lo scrive e poi cerca di contrastarlo, non può che muoversi in situazioni di difficoltà complessiva naturalmente e quindi di urgenza e di straordinarietà. Per quanto riguarda la situazione economica è una situazione delicata, è una situazione delicata che coinvolge l'intera area radicale. Questa difficoltà è dovuta al fatto che i radicali non possono più o non riescono più a fare iniziativa politica democratica attraverso gli strumenti canonici, cioè quelli dell'iniziativa popolare piuttosto che quelli degli appuntamenti elettorali. i radicali da tempo non usufruiscono più di finanziamento pubblico dal punto di vista naturalmente degli appuntamenti elettorali, cioè dei soggetti elettorali, quindi non della radio che però è parte a sé e quindi naturalmente non hanno neanche più i contributi dei parlamentari, non essendo noi più presenti in Parlamento e quindi diciamo che si nutrono solo dell'autofinanziamento. L'autofinanziamento è complessivamente in calo negli ultimi anni, anche se ci sono soggetti della galassia radicale che si muovono in controtendenza. Radicali italiani è riuscito nell'ultimo anno a interrompere l'emorragia di autofinanziamento, invertendo seppur leggermente la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. Certo il problema esiste, il problema esiste anche perché non ci sono risorse sufficienti in questa fase per mantenere anche una sede come quella nella quale ci troviamo di Torri Argentina, che comporta delle spese fuori dalla portata attualmente dei soggetti politici che la abitano naturalmente. È ovvio e tutti ben lo sappiamo che il problema è politico, certo il problema è tradurre in un ritorno anche di natura economico-finanziaria un'iniziativa politica o le nostre iniziative politiche. Il problema è che naturalmente con la presenza nelle condizioni attuali che noi definiamo di regime è evidentemente difficile, se non impossibile, precluso a una forza politica come la nostra raggiungere gli italiani e quindi è difficile immaginare delle soluzioni politiche, cioè delle proposte politiche che possono tradursi anche in iscrizioni e consenso diffuso stante alla situazione attuale. Anche per questo io proposi nell'aprile scorso una soluzione patrimoniale. Più volte i radicali hanno messo a disposizione il loro avere per l'essere, si diceva così e si dice così, avevo proposto l'aprile scorso di affittare la sede di Torri Argentina per acquisirne un'altra più adatta alle attuali esigenze e meno costosa, naturalmente con un mutuo. Una operazione di questo tipo ci avrebbe permesso di interrompere l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria da una parte, di accrescere il patrimonio anche acquisendo una nuova sede in mi pare 17 o 18 anni avevamo calcolato e di garantire un'entrata, seppur relativamente modesta, di circa 10 mila Euro mensili all'area, il tutto naturalmente con un'operazione di natura, quindi immobiliare e patrimoniale. Si è fatto ironia su questa proposta, vedremo se ce ne saranno di più efficaci che aiuteranno anche dal punto di vista economico-finanziaria dell'area. Valerio, mi sembra che una parte delle sorti, o forse tutte le sorti di questa galassia, di questo movimento, come si può chiamare, vengono un po' trattate in riunioni fantomatiche definite delle dodici, che pare di capire che si succedono ormai quotidianamente. Ecco, tu ne fai parte e da un punto di vista, non lo so, come dire, organizzativo, statutario a che cosa sono? Devo dire che le riunioni delle dodici sono state spontaneamente, come dire, convocate con le persone presenti in sede in un primo periodo e poi si è scelto giustamente di dare a tutti la possibilità di seguirle e di intervenire a tutti, intendo per esempio a tutti i membri del Comitato Nazionale, della Giunta e della Direzione dei Radicali italiani, che sono messi effettivamente nelle condizioni di scegliere se partecipare o meno, di seguire a distanza queste riunioni e se intervenire. Abbiamo segnalato che effettivamente, ho segnalato tra gli altri, che magari l'orario non è il più adatto, soprattutto per venire incontro a chi lavora, ma certo, francamente non credo che questo sia un problema. Il problema è che, naturalmente, queste riunioni, secondo me opportune, vanno a compensare delle altre carenze di natura statutaria che non riusciamo a colmare, a risolvere, che sono quelle della sospensione sostanziale dal punto di vista statutario del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito che fa attività, ma la fa slegata, naturalmente, dall'organizzazione prevista statutariamente. Questo è un problema che conosciamo e che sappiamo come centrale e forse va ricordato anche che, invece, i radicali italiani, proprio da quando il Partito Radicale non garantisce più la vita del Partito dal punto di vista del processo decisionale, ebbè i radicali italiani garantisce, e se vogliamo in parte compensa, questa carenza dal 2011 a quest'anno, cioè lo garantisce da sempre i radicali italiani, ma a maggior ragione dal 2011 a quest'anno ad ora, garantendo la partecipazione dei cittadini, di chi vuole, alla partecipazione al processo decisionale. Questo è un merito, naturalmente, di radicali italiani, qua non si tratta di mettere nulla in concorrenza, si tratta semplicemente di ricordare che l'essenza di un partito politico, di un movimento politico, è quello di relazionarsi con i cittadini e di dare a loro strumenti per iscriversi e partecipare al processo decisionale, appunto, del movimento politico. Va bene, allora grazie a Valerio Federico, ancora uomo libero, libero di dare le interviste a LibriTV, qualcosa da aggiungere? No, aggiungo solo che in questo comitato, parlando di questioni ancor più politiche, come per metterci e lasciarci alle spalle delle difficoltà interne che ormai ci trasciniamo da alcuni anni, che hanno portato a delle degenerazioni che certamente non aiutano il rilancio dell'area radicale, per quanto questo possa essere possibile. E allora io ho proposto un patto che responsabilizzi tutti noi, squadre, non squadre e via dicendo, su due punti, due punti di potenziale mobilitazione previsti dalla mozione votata quasi al 90% nell'ultimo congresso di radicali italiani. I due punti sono quelli di mobilitarsi insieme naturalmente alle associazioni, i punti di riferimento ai militanti radicali su tutto il territorio, da una parte per cercare di tornare a garantire agli italiani il diritto di conoscenza, cercando di promuovere la denuncia che la lista pannella radicale italiani hanno fatto alla CEDU per quanto riguarda la denuncia allo Stato italiano della mancata informazione di questi anni, informazione non garantita a molte organizzazioni e movimenti politici radicali in primis e quindi cercando di mobilitarci per raggiungere i cittadini e documentare a loro quello che è quello che noi descriviamo come regime che impedisce proprio a loro di conoscere per deliberare e di conoscere quindi chi propone politica e che fa proposte politiche in questo paese e a questo affiancare la mobilitazione locale, cioè utilizzando gli strumenti iniziativa popolare locale previsti per esempio dagli statuti dei comuni per cercare di portare avanti di nuovo all'attenzione dell'opinione pubblica alcune nostre battaglie che si possono declinare anche a livello locale che sono legate principalmente all'antiproibizionismo, all'eccessivo, per non dire grave, pericoloso consumo del suolo e alla presenza delle società partecipate, casa della nuova partitocrazia che consuma risorse pubbliche per finanziare il consenso ai partiti. Allora iniziative popolari locali e denuncia e mobilitazione per tentare di spiegare e far comprendere ai cittadini come è impossibile attualmente in questa fase per la verità da molti anni in questo paese comunicare le proprie idee e le proprie proposte politiche e tutto questo tramite un patto tra quelle che sono state definite anche da me, sensibilità diverse presenti al partito per riunirle in due obiettivi specifici e tornare ad essere efficaci nella nostra azione. Grazie a vero Federico. Grazie a voi.